Circa 100 espositori italiani e stranieri, oltre 200 relatori, tra cui Alberto Angela, reportage sulle missioni archeologiche italiane all'estero, l'archeologia a rischio sotto le bombe, ma anche moltissime attività per bambini che possono sperimentare la scheggiatura della pietra, imparare come si scrive con i geroglifici o realizzare un mosaico. Tutto questo è Turisma, il salone dedicato all'archeologia e ai beni culturali che si svolge tra oggi e domenica al Palacongressi di Firenze. Questi tre giorni saranno tre giorni di immersione totale nella conoscenza. Uno dei nostri stand si chiama appunto l'Allegro Museo. Noi vogliamo che Turisma sia un'allegra tre giorni di immersione nella cultura, fare cultura divertendosi. Quest'anno una particolare attenzione è dedicata alla scoperta degli antichi reperti attraverso tecnologie innovative.